Vi è mai capitato di avere problemi durante l'esportazione di un pdf da illustrator? Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui decidiamo di salvare un pdf. Andiamo a selezionare pdf, salviamo sulla scrivania. Ora, ovviamente questo è un pdf che noi vogliamo stampare, per cui gli diciamo di convertire in destinazione e viene fuori questo messaggio di errore. Questo succede perché questo è un template che mi è stato fornito direttamente dal cliente. Ora, nel momento in cui io vado a controllare, il metodo colore del documento è quadricromia, questo è corretto. L'altra cosa che dobbiamo controllare è l'assegnazione del profilo colore. Vediamo che in questo caso nel template fornito dal cliente non è stato assegnato alcun profilo colore, per questo mi viene fuori l'errore in fase di esportazione del pdf. Io invece abbino il mio profilo colore, che è Fogra39, lo standard per l'Europa che si usa di solito. A questo punto, nel momento in cui io vado a salvare il mio pdf, gli posso dire converti in destinazione e non avrò nessun errore. E gli dico includi profili di destinazione e il mio salvataggio è pronto. Grazie. Grazie.